Un chilometro di strada pericolosa senza catari frangenti che segnalino il limite della careggiata è un garrelle arrugginito di una cinquantina di metri, rimasto lì chissà da quanto tempo con le estremità non interrate, con tutte le conseguenze che questo comporta in caso di impatto da parte di qualche auto. È il tratto di strada che dalla fine di via segna Nuoro, arterie a quattro corsie, conduce a Prato Sardio e all'innesto con la 131. Una strada a due corsie che deve smaltire, specie la mattina, nel primo pomeriggio e in serata, è importante i volumi di traffico ma che è inadeguata e va messa in sicurezza in tempi brevi. Diversi anni fa era stato predisposto al Comune un progetto per rifare l'ingresso principale di Nuoro, quello che gestisce il maggior flusso veicolare che rappresenta anche il collegamento con l'area industriale e commerciale di Prato Sardo. Ma di quell'idea progettuale è stata realizzata solo la parte che riguarda via segni, che è stata adeguata con tanto di barriera sparti traffico e illuminata a giorno. Poi gli automobilisti che la lasciano finiscono immersi nel buio nel tratto che va dall'ex gacciara fino allo svincolo per la 131. 6-700 metri pericolosi con alcuni incroci al raso e spesso teatro di incidenti. Le auto percorrono quel tratto di strada d'inverno reso viscito dalla pioggia, dal ghiaccio o avvolto dalla nebbia senza che la segnaletica verticale sia adeguata. Le auto utilizzano gli abbaglianti rendendo così ancora più complicata la visuale per gli altri automobilisti, senza poi parlare del gun rail collocato in una posizione inutile per svolgere la sua funzione ma pericoloso per chi ci fine in sé contro. Serve un intervento deciso da parte delle autorità competenti per dare degnità ad una delle porte di nuova e soprattutto renderlo sicuro per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono con la strada per raggiungere o lasciare il capologo barbaricino.